Eventi del genere che hanno segnato la storia dell'Italia vanno sempre ricordati e mai dimenticati. Fratelli d'Italia quest'oggi c'è con un gesto alquanto simbolico da un luogo simbolico, Piano San Gregorio. Sì, Fratelli d'Italia oggi è presente al Piano San Gregorio per deporre un mazzo di fiori. Oggi ricordiamo che è il trentesimo anno della strage di Capaci e Fratelli d'Italia è il partito della legalità dello Stato, dell'Ordine e tiene particolarmente a questa data. Oggi siamo qua veramente per dare un segnale importante perché non è che si combatte la mafia solo nei momenti di emergenza ma sempre ogni giorno ed è quello che noi dobbiamo insegnare ai ragazzini sin da piccoli che la mafia è una cosa brutta, che la mafia va allontanata e che la mafia va combattuta ma soprattutto per dare future dignità alle future generazioni. Oggi siamo qua con Giancarlo Granata che è responsabile del Dipartimento Legalità a dare questo segnale importante e che è un segnale che naturalmente rivolgiamo a tutta la popolazione. Diceva Giovanni Falcone, gli uomini passano, le idee restano. Noi in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci come Fratelli d'Italia abbiamo voluto lanciare questo messaggio forte di mantenere sempre l'attenzione alta contro la mafia. Questo è un luogo storico dove il Papa Giovanni Palo II nel 1993 lanciò l'anatema contro le mafie e quindi siamo il partito della legalità, siamo il partito delle regole, siamo il partito che vuole lanciare questo messaggio di rispetto anche per le future generazioni. La mafia va combattuta con gli esempi, con i gesti quotidiani e quindi non soltanto, come diceva l'amico Lillo Pisano, soltanto nei momenti straordinari di emergenza. L'occasione è importante per lanciare un'iniziativa che abbiamo condiviso con Lillo Pisano che è quella di una petizione online dove raccoglieremo le firme che scarranno il 19 luglio in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio del giudice Borsellino e della sua scorta con la quale chiediamo alle istituzioni, in primo luogo a Sua Eccellenza il Prefetto e anche al sindaco di Agrigento di realizzare proprio qui nel territorio del comune capoluogo una stele in memoria e in ricordo di tutte le vittime e di tutti i caduti delle mafie. Mi pare che sia un gesto importante perché la memoria deve essere sempre ricordata e non deve cadere nell'obblio. Questo siamo noi e vogliamo continuare in questo percorso di legalità che è importantissimo per dare una prospettiva alla nostra terra.